Compie 171 anni oggi la Polizia di Stato, lo fa con una festa alla quale partecipa la Premier Giorgia Meloni, insieme al Ministro dell'Interno Piantedosi, al Capo della Polizia Giannini. Giornata che è iniziata poco fa alla Scuola Superiore di Polizia e che proseguirà anche alla Terrazza del Pincio, sempre a Roma. E allora c'è giorno. Stefano Corradino, buongiorno Stefano. Sì, buongiorno. Molte le iniziative per celebrare questo 171esimo anniversario della Polizia. Di Stato, proprio alle 9 c'è stata la deposizione della Corona da parte del Ministro dell'Interno Piantedosi e del Capo della Polizia, Lamberto Giannini, nel Sacrario dei Caduti. E alle 11 ci sarà la cerimonia al Pincio con il conferimento della medaglia d'oro alla presenza della Presidente del Consiglio Meloni. Verranno ricordati tutti quei poliziotti che hanno perso la vita nell'esercizio del dovere. Ad esempio Domenico Zorzino, che è stato il Capo Coordinatore della Polizia di Stato e che si è gettato in un canale di Anguillara Veneto lo scorso 3 marzo per salvare una persona che l'è rimasta intrappolata nel veicolo che si stava inabissando. Oppure Giuseppe Baratta, appuntato del Corpo di Pubblica Sicurezza che nel 1944 nel Perugino salvò circa 30 ebrei rinchiusi in un campo di concentramento. E allora, dalla Scuola Superiore di Polizia vi restituiamo la linea. Ovviamente dalle 11 seguiremo le altre cerimonie. A voi. A più tardi.